Dottor, parla sugli studenti se voleva dare un consiglio rispetto all'intervento che farà. Insomma, io penso che sia importante, si apprestano ad entrare, oggi è un giorno in cui celebrano anche i risultati che hanno raggiunto, graduation day, quindi per loro è un giorno molto importante, è una giornata in cui pensare a lunga gittata. A lunga gittata anche riguarda le pensioni dei futuri professoristi della sanità del domani? Assolutamente, pensare anche a quello, chiaramente, credo che pensare alle proprie pensioni future non ti fa sentir vecchi, non è semplicemente un modo di occuparsi di se stessi e di garantirsi più libertà, più in là nella propria esistenza. La busta arancione parte domani? Questa settimana partono le prime buste arancioni. Quanti saranno? Saranno 150.000 e sono delle buste che contengono informazioni di base. Noi ci allineiamo alle previsioni della ragioneria generale dello Stato, che peraltro sono concordate a livello europeo, e quindi lo scenario di riferimento di base sulla crescita di lungo periodo è quello. Quello invece dei prossimi cinque anni è quello del documento di economia e finanza, quindi prima quello del documento di economia e finanza, poi quelli della ragioneria generale dello Stato. e chiaramente poi noi invitiamo le persone che ricevono la busta arancione a venire sul sito dell'Inps a prendersi speed, chiaramente l'identità, altrimenti coloro che hanno già il PIN dell'Inps lo possono già fare, per poi fare tutte le simulazioni che sul sito possono essere fatte. È davvero qualcosa, come spiegherò durante questo intervento, che serve moltissimo alle persone. Primo, perché noi ricostruiamo la carriera contributiva passata, quindi diamo l'estratto conto contributivo e chiediamo alle persone di verificare che questa ricostruzione sia esatta, quindi questo è un primo servizio che è l'importante che noi facciamo. Secondo luogo, mettiamo in luce qual è il rapporto tra i contributi versati e la pensione futura, quando sarà possibile andare in pensione e poi chiaramente mettiamo in luce qual è il legame che c'è tra andamento dell'economia italiana, quindi crescita economica e pensioni future, carriere individuali, quindi salari che verranno percepiti e pensioni future. Credo che questo sia molto ma molto importante, perché ci rendiamo conto che in Italia c'è una bassa purtroppo cultura previdenziale e c'è una ancora più bassa consapevolezza finanziaria, soprattutto tra le giovani generazioni che sono quelle che sono oggi maggiormente responsabilizzate dalle nuove regole del sistema previdenziale, quindi loro hanno veramente bisogno di saperne di più e noi pensiamo che questo servizio che noi diamo li spingerà ad acquisire più informazione e interessarsi di più di questi problemi. Grazie a tutti.